torniamo oltre le colonne d'Ercole ma stavolta in questa seconda parte non guardiamo il viaggio delle persone guardiamo il viaggio delle aziende io ho un vantaggio ho questa doppia prospettiva perché da anni insegno ai ragazzi sono 13 anni che insegnano agli ingegneri di Udine ai futuri ingegneri gestionali sistemi informativi supply chain industry 4.0 e quant'altro lavoro con le aziende come consulenza e sono anni come diceva prima Illy che mi accorgo che stiamo vivendo tempi assolutamente complessi è un tema importante distinguere queste due parole complicato e complesso sembrano quasi dei sinonimi ma il latino che a me piace avete capito dice cose diverse complicato viene da complico dal plico che può essere piegato e spiegato complesso viene dal nodo ganglio nervoso che si è interconnesso complicato può essere affrontato con un approccio analitico pensate quante volte fin da piccoli abbiamo fatto materie e esami che iniziano per analisi analisi logica analisi grammaticale analisi 1 analisi 2 analisi pochissimi esami e pochissime materie iniziano per sistema perché? perché noi pensiamo che il mondo sia un meccanismo e non un organismo un meccanismo può essere montato e smontato a piacere anche da non si è neanche un ingegnere lungi da me chiedere a un ingegnere di smontare un bambino ma anche se lo chiedesse a un medico il medico mi direbbe non si può smontare un bambino è un organismo un mal di testa in un organismo non è detto che sia un male della testa sono due cose profondamente diverse e le aziende sono anni che stanno vivendo in tempi complessi cosa significa complessità? significa incapacità di gestire i mercati i clienti i fornitori la concorrenza come vorremmo noi non ci riesce Apple non ci riesce Samsung non c'è riuscita Hertz che è saltata durante il Covid perché questa complessità travolge le aziende cosa fanno le aziende come la natura come gli ecosistemi in natura risponde a questa complessità esterna aumentando la propria complessità interna si aumenta la gamma di prodotti si aumenta la gamma di processi si aumenta la gamma di tecnologie i ragazzi studiano sempre nuove tecnologie tutto per avere prestazioni migliori tre classi grandi di prestazioni l'efficienza fare le cose nel modo migliore possibile l'efficacia fare le cose giuste al di là che ci metta poco o tanto tempo ed è soprattutto la flessibilità fare in modo che la mia rete di fornitura non dipenda solo dal canale di Suez è sufficiente che una barca una nave si incastri in questo canale e le materie prime non arrivano più allora abbiamo solo tre leve di intervento per affrontare questo tema possiamo lavorare a livello strategico a livello organizzativo a livello gestionale la risposta strategica alla complessità si chiama modularità funziona esattamente come il Lego anzi come il Lego di una volta di quando ero piccolo io scatoloni con tanti pezzi ma di colori ridotti e di dimensioni più o meno sempre uguali oggi una scatola di Lego per fare un'astronave ha i pezzi dell'astronave cerchi di fare un albero un animale non puoi farli una volta la fantasia ci consentiva di affrontare magari le situazioni con meno varietà però comunque rimodulandole attraverso tanti blocchetti perché la modularità cosa ci insegna? a focalizzarci perché se io spezzo un problema in tante parti posso affrontarle con efficacia affrontando più volte queste sottoparti lo faccio con ripetitività e quindi divento efficiente ma combinandoli insieme posso affrontare qualunque situazione le aziende che hanno affrontato la complessità hanno strategicamente modularizzato i propri prodotti i propri mercati i propri processi ma c'è un'altra risposta alla complessità è quella gestionale bisogna adottare regole semplici un esempio romantico è il momento musicale di come un sistema clamorosamente complesso sia riconducibile a regole molto semplici questo è uno stormo di storni è un moto armonico è un moto che non può essere casuale si comportano così anche i pesci i branchi di pesci adesso si disgrega e si riaggrega bene ingegneri gestionali ingegneri meccanici informatici hanno studiato questo moto hanno detto figurati ci sarà un uccello che batte il tempo tutti gli altri lo seguono niente di più falso all'interno del singolo stormo all'interno del cervello degli uccelli ma delle termiti dei pesci ci sono solo tre regole semplici la prima è se tutti ti vengono addosso spostati la seconda se tutti vanno in una certa direzione è meglio che tallinei ci sarà un buon motivo la terza se c'è un posto ricco mi ci ficco c'è più spazio non mi vengono tutti addosso io prendo queste tre regole le scrivo in un software tridimensionale e ottengo il moto di uno stormo è un moto armonico ma solo tre regole semplicissime lo descrivono qual è l'unico l'inghippo che allo stormo non interessa sapere dove sarà fra dieci minuti l'importante è che continuerà a volare coeso allora dobbiamo sforzarci di fronte alla complessità di trovare delle regole semplici che consentono comunque di creare moti così armonici non è impossibile ma dobbiamo invertire la prospettiva non analizzare il problema ma affrontarlo esattamente con la terza aspetto che è quello della risposta organizzativa che è quello dell'alveare un alveare se ci pensate è una magia della natura le api sono geniali a partire dal fatto che fanno esagoni per fare l'alveare non so se lo sapete hanno scoperto da solo l'efficienza perché l'esagono è l'unica superficie che tassella assieme al quadrato e assieme al triangolo equilatero ma parità di cera cioè di impegno di fatica è quella che consente di coprire la massima superficie l'hanno imparato da sole ma hanno imparato anche altre quattro cose la prima hanno imparato a interconnettersi non in modo gerarchico le api non parlano con un top down ma ogni singola ape operaia lavora come un middle manager per centri e periferie assieme all'api vicino e così si spiega l'organizzazione complessa che hanno la seconda cosa fanno ridondanza cioè fanno la job rotation un'ape nasce spazzina dopo qualche settimana diventa nutrice poi diventa ceraia poi diventa guardiana poi diventa magazziniera o bottinatrice si dice anche poi diventa esploratrice e così nel momento in cui serve difendere l'alveare far la ceraia eccetera tutte sanno fare tutto però quando serve e basta altrimenti sono specializzate esploratori ed esperti insieme la terza e terzo elemento la condivisione come fanno a parlarsi e a capirsi usano un unico ferormone informazioni semplici invece noi siamo pieni di informazioni complicate ultima cosa se le cose vanno male ci si riconfigura l'ape regina che uccide le altre api operaie che vengono utite con la pappa reale se no diventano regine anche loro quindi fertili nel momento in cui scopre che c'è molta complessità lascia allevare segretamente un'altra ape la nuova ape regina rimane nel vecchio alveare e lei sciama si porta via le sue addette cambia ferormone e così crea due alveari uno già pronto all'uso uno che crea lei questo è una risposta organizzativa alla complessità bisogna imparare a farlo nelle aziende altrimenti non affrontiamo mai la complessità in questi termini ma torniamo a chi l'ha affrontata per una vita la complessità questo è Mario Andretti grande pilota di Formula 1 lui diceva attenzione quando io faccio un giro che la macchina funziona perfettamente cioè se tutto è sotto controllo allora sta andando troppo piano un pilota di Formula 1 sa che il giro perfetto è un giro al limite in cui tutto vibra in cui la macchina scoda via allora anche le aziende devono imparare a surfare all'ordolo del caos e qui torniamo all'esempio torniamo oltre le colonne d'Ercole ma non lo facciamolo adesso come persone come i ragazzi che hanno ascoltato la prima parte facciamolo come esperti d'azienda abbiamo gli strumenti giusti abbiamo le nostre bussole per orientarci abbiamo un'organizzazione un equipaggio fatto da competenze e cultura abbiamo soprattutto capito se questa cosa può cambiare i nostri modelli di business allora lì leggiamo dal punto di vista dell'azienda cosa significa surfare all'ordolo del caos la prima onda l'abbiamo detta prima è l'onda delle tecnologie la tecnologia abilitanti l'ha detta benissimo un comico questo è Paolini attuale tatrale cosa è la tecnologia è tutto ciò che è nato dopo di me e che sono costretto a imparare perdendo un sacco di tempo perché mi hanno detto dopo che farò prima siamo allergici alla tecnologia ci promettono grandi cose ma le tecnologie che sono arrivate con la 4.0 ce ne sono nove principali nessuna di queste è davvero nuova e questa è la grande differenza con la prima con la seconda con la terza rivoluzione industriale non c'è un motor a vapore non c'è un microchip queste tecnologie esistevano già semplicemente sono diventate più fruibili accessibili sono meno costose e garantiscono maggiore qualità ce ne sono nove non entro nel dettaglio dico solo che sono arrivate negli ultimi 20 anni si stanno solo evolvendo si stanno evolvendo in un modo organico molto forte e guardate cosa succede questo è sempre il famoso report che è appena uscito dal World Economic Forum ha confrontato qual è il livello di adozione delle tecnologie nel 2018 con quello del 2025 sono tutte in crescita le adozioni eccetto i nuovi materiali eccetto il computer quantico che è in ritardo ma tutto il resto sta aumentando sta aumentando e meno male che sta aumentando sono affezionato a questo video guardatelo ora i emozioni possono lavorare smarter e portare le persone che hanno bisogno con solo un tap possono truffleshoitare ripare e performare con confidenza e velocità possono muovere liberamente prendere informazioni critiche in vista e mantenere fokussi sulle tassi sono hands free per fare il lavoro questo è collaborativo problem-solving a full speed i loro sono persone uniti across tempo e distanza più conecti più informi e più efficient ora i emozioni possono lavorare da qualunque possono andare là senza essere là questo non è il futuro questo non è il futuro questo è qui e ora non voglio fare pubblicità è un video pubblico sta su youtube ma me lo ricordo molto bene era l'ultima settimana di febbraio del 2020 alla vigilia del lockdown io ero in confindustria a Bolzano veniva presentato questo progetto e molte persone in sala hanno detto ma sì dai sono tecnologie evolute figurati quante aziende possono adottarle poi cosa ci servirà questa cosa la settimana dopo il mondo si è fermato con queste tecnologie facciamo l'alveare il ferormone è digitale abbiamo tante intelligenze collettive connesse e la possibilità di interagire direttamente con queste con queste intelligenze e questo è il futuro ma veramente è già ora questo è il prodotto di microsoft con le low lens ma ce ne sono molti altri che si stanno applicando alla manutenzione predittiva e all'assistenza da remoto è un mondo che cambia ed è un mondo che però non siamo pronti ancora ad affrontare questo è un altro esempio viene applicato anche nell'architettura questo chiaramente è più un wallpaper pubblicitario ma è interessante capire perché queste cose non stanno ancora funzionando sempre questo report che condivido lo trovate anche voi su internet quindi è molto facile scaricare un pdf è molto bello da leggere è in inglese però è la lingua del futuro purtroppo o per fortuna qual è il motivo per cui non siamo ancora pronti ad adottarle ve ne cito tre ci sono e parlo ai ragazzi soprattutto e parlo a chi ha il compito di formarli e parlo alle aziende che devono accoglierli le aziende vorrebbero accoglierli ma non si trovano queste competenze l'altro problema è non riesco a trattenere quei talenti l'abbiamo visto prima questi smart questi creativi smart come diceva Schmidt come faccio a trattenere un'azienda e soprattutto ho il capitale il contesto sta investendo davvero in tutto questo questi sono i motivi principali li ho segnati tutti e tre perché c'è un caso storico ve lo ricordate la Silicon Valley uno dice perché è nata la Silicon Valley ci sarà il silicio sotto gli americani eccetera la storia della Silicon Valley è incredibile è la storia di William Shockley forse non lo conoscete lui ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 1956 è l'uomo che ha inventato e ha progettato i transistor perché la Silicon Valley è legata a William Shockley perché la mamma di William Shockley vive a palo alto William divorza dalla moglie non si sa stirare le camicie non sa farsi da mangiare e va a vivere con la mamma alla faccia che siamo noi italiani mammoni e facendo così si trascina in Mountain View tutto il suo team di ricerca e lì si crea l'innesco della Silicon Valley ma visto che William aveva anche un caratteraccio lui non innesca solo non ha solo portato il silicio nella Silicon Valley tra virgoletti il transistor ma ha anche creato involontariamente un fenomeno ben noto che è quello del spin off perché dalla sua prima azienda nasce la Felch che è il semiconduttori che poi ha affiliato un sacco di altre aziende nei dintorni una di queste è Intel Intel scusate questo fenomeno lo possiamo ricreare anche qui in Friuli in Italia non è facile perché le cose non si ripetono questi modelli non si ripetono è stato varato un piano regionale lo comunico perché penso che lo sappiate ma è importante è importante crederci che tutti ci crediamo chiamato Advanced Manufacturing Valley perché il Friuli è un po' particolare è un contesto assolutamente manifatturiero con una grandissima vocazione e come si diceva anche prima ci sono molte aziende impegnate nella trasformazione digitale qualcuno ha l'omillanta non sono tutti bravi alcune sono bravissime c'è un problema di talenti non è vero li abbiamo i talenti io insieme all'università li vedo questi ragazzi ho dei figli adesso non voglio esaltare i miei figli ma conosco anche i loro amici abbiamo i talenti in casa quello che ci mancano sono i capitali e allora cosa dobbiamo fare in questo contesto dobbiamo crederci anche con queste iniziative come il DIM dobbiamo creare quello che viene chiamato effetto mulinello cos'è l'effetto mulinello? è come il vortice se io inizio a prendere i talenti a tenerli vicino a me perché gli offro delle tecnologie forti perché i big player ho citato prima Microsoft potete citare Dell, Nvidia o altri partner molto grossi dell'iTech ma ci sono delle aziende che investono in queste sfide applicative e il contesto regionale ma non solo la politica non è sempre colpa della politica ma anche le aziende e non solo le grandi aziende ma anche le medie e le piccole ci credono creiamo un circuito virtuoso io non ce l'ho con l'esterofilia va benissimo che questi ragazzi vadano all'estero vadano a lavorare nelle multinazionali ma non solo lì anche qua possiamo realizzare queste cose possiamo fare dei progetti bellissimi io alcuni non li posso nemmeno citare perché sono protetti ma conosco tante realtà che stanno facendo delle cose bellissime in Friuli quindi le tecnologie vanno messe in un contesto che possa ricreare una Silicon Valley anche qua magari la chiamerò Advance ma non effettano in Valley ma per farla abbiamo bisogno anche di cambiare la nostra cultura dobbiamo come aziende guardare i dati c'è un film di qualche anno fa che è la più bella metafora di cosa significa porre il dato al centro è una clip presa da Jurassic Park cento milioni di anni fa c'erano le zanzare esattamente come ai giorni nostri e proprio come oggi succhiavano il sangue agli animali perfino ai dinosauri a volte dopo aver punto un dinosauro la zanzara si posava su un ramo d'albero e restava invischiata in una goccia di resina col passare del tempo la resina induriva si fossilizzava proprio come un osso di dinosauro conservando al suo interno la zanzara questa resina fossile che noi chiamiamo Amna ha atteso milioni di anni con la sua zanzara dentro fino all'arrivo degli scienziati del Jurassic Park servendosi di tecnologie fantascientifiche gli scienziati hanno estratto il sangue conservato nelle zanzare e tombola DNA di dinosauri un intero filamento di DNA contiene 3 milioni di codici genetici se guardiamo delle schermate come questa ogni secondo per 8 ore al giorno impiegheremmo due anni per vedere un intero filamento di DNA è proprio lungo e siccome è molto vecchio è anche pieno di interruzioni vedi qui che la nostra ingegneria genetica è in pregio supercomputers e sequenziatori di geni elaborano il filamento nel giro di pochi minuti e la grafica della realtà virtuale ci mostra le interruzioni nella sequenza del DNA ci siamo serviti del DNA completo di un osco per riempire le interruzioni e completare il codice e ora ci possiamo creare un baby di un sauro era un film di qualche anno fa scusate era un film di qualche anno fa però è un film che ci insegna moltissime cose innanzitutto che la storia ha molto da insegnarci dobbiamo credere che nell'ambra ci sia del valore la seconda cosa le tecnologie le abbiamo la zanzara sono le tecnologie di prelievo non prelevano sangue prelevano dati ma questi dati dobbiamo darli in mano alle aziende che ci dicono dove scavare o meglio dove andiamo a scavare per trovare il valore dell'azienda poi abbiamo i data scientists data analysts i genetisti che decodificano quei dati ma di nuovo le aziende devono mettere in gioco i loro scienziati quelli che aggiungono il significato la catena del dinero del rospo che fa ricreare la vita questo è porre l'informazione al centro e nell'azienda questa cosa non viene sempre fatta bene dobbiamo costruirci un data lake si dice un lago dei dati dove possiamo per la prima volta nella storia metterci tutti i dati del prodotto perché possiamo sensorizzarlo dopo che è uscito dalla nostra fabbrica possiamo continuare a monitorare la nostra macchina il nostro impianto la nostra lampada led il nostro pneumatico possiamo prendere i dati dell'azienda i clienti i fornitori c'è un patrimonio incredibile di informazioni che non guardiamo mai ci sono delle aziende che hanno comprato hanno messo dal 2015 dei sistemi messi in azienda non gli pareva vero alle aziende che vendono mess di essere considerate innovative io che le conosco le aziende che vendono mess il software ha 20 anni ha 30 anni non è innovativo però è diventato innovativo nel 2015 perché? perché preleva questi dati e li porta all'analisi ma questi dati vengono anche integrati volendo da database esterni in questo data lake il problema è prendere decisioni corrette le aziende devono fare buone scelte sulla base di obiettivi che nascono da una strategia e molto spesso i dati con cui faccio queste scelte devono essere valutati attraverso dei risultati guardo il risultato e eventualmente cambio gli obiettivi le aziende però pensano che per fare tutto questo sia sufficiente comprare la business intelligence non è vero per fare tutto questo servono tre processi chiave servono di nuovo le persone e l'organizzazione perché se io non ho dei buoni processi che alimentano queste informazioni se non ho dei processi organizzativi che dicono chi deve guardare i dati e quando e se non ho qualcuno che presidia risultati e dice allora dobbiamo cambiare il modo di lavorare tutto questo non serve a niente altrimenti ci schiantiamo come dice Dante di Ulisse terzo aspetto l'equipaggio con chi facciamo questo viaggio partiamo allo sbaraglio con un equipaggio vecchio come è successo a Ulisse allora guardiamo cosa dice di nuovo il World Economic Forum dice che le personalità tradizionali quelle che abbiamo visto in quella colonna di destra che andava calando caleranno dal 15 al 9% dell'impiego 6 punti percentuali nel 2025 quelle emergenti cresceranno dal 7,8 al 13,5 85 milioni di persone verranno sostituite dalle macchine come diceva prima Francesco ma 97 milioni di posti di lavoro nasceranno nuovi la bilancia comunque è in positivo c'è un 12 milioni di posti di lavoro in più se siamo capaci di riconvertirci perché guardate a sinistra ci sono i mestieri di oggi a destra ci sono quelli nuovi le nuove professioni sono più inclusive in particolare il cloud computing in particolare l'intelligenza artificiale in particolare lo sviluppo del prodotto basato su queste tecnologie e le aziende cosa dicono il 43% dell'azienda ha detto che ridurrà la forza lavoro con le nuove tecnologie l'abbiamo sentito anche prima abbiamo visto dei cobot e andranno anche a cercare fuori competenze non all'interno dobbiamo pertanto accorgerci che anche io e anche voi ragazzi che state studiando fra 5 anni dovete fare quello che viene chiamato upskilling cioè aggiungere nuove competenze un upgrade di quello che già sapete altrimenti sarete fuori dal mercato alcuni dovranno fare proprio reskilling imparare da zero nuovi lavori e quindi le aziende cosa dovranno fare faranno queste due cose insieme per tre motivi primo perché così resteranno competitive secondo perché valorizzeranno le seniority che altrimenti impoveriscono all'interno dell'azienda terzo perché diranno ai propri collaboratori io ci tengo a te e questa capacità si appoggia anche sui collaboratori lo si diceva prima il coraggio è vostro le soft skills sono importanti tanto quanto le hard skills in questo percorso ed è un percorso che sta cambiando il mondo del lavoro a me piace questa immagine io ho iniziato a lavorare in un mondo che divideva le competenze tra colletti blu e colletti bianchi non ci sono più i colletti blu e non ci sono più i colletti bianchi stanno nascendo i colletti azzurri in produzione gli operai diventano esperti non della macchina ma esperti del processo della macchina non fanno i corsi per imparare a usare una macchina come noi abbiamo fatto i corsi per imparare a usare lo smartphone l'importante è usarlo non smontarlo e capire tutte le sue funzionalità e gli impiegati di ufficio che guardavano solo numeri devono capire anche i processi produttivi i processi di business i processi della supply chain sta cambiando tutto è un tema culturale questa sembra una tribù del borne o dimenticata da Dio e dagli uomini in realtà se guardi bene al centro c'è uno che ha una sigaretta in mano a volte ci ingannano le culture cos'è la cultura è per le organizzazioni quello che è la personalità per gli individui l'ha detto Stanley Davis questo io entro in un'azienda e vedo subito quali sono i suoi valori le sue norme i suoi comportamenti i suoi rituali i simboli e la cultura si mangia la strategia a colazione io posso fare qualunque strategia 4.0 posso dire di credere nei giovani ma poi la cultura in cui immergo questi giovani capisce subito se vengono valorizzati allora ci vuole un manifesto io nel corso assieme ai 24 prodi studenti che in realtà erano dei manager abbiamo scritto insieme questo manifesto abbiamo detto partiamo con questo corso ho avuto la fortuna di iniziarlo con loro e ho detto se volete fare un project work fatto bene la cultura 4.0 è fatta da 4 culture la cultura della misura l'informazione è il più grande capitale intangibile dell'azienda non si tocca ma produce la maggiore ricchezza possibile la seconda cultura è quella del processo dobbiamo creare regole semplici l'abbiamo visto prima e interconnetterci come in un alveare la terza cultura è la fiducia è la cooperazione vi ricordate l'intervento prima della pausa dobbiamo imparare a fidarci dei nostri clienti a fidarci dei nostri fornitori è l'unico modo per crescere è la quarta cultura è la cultura del valore tutto quello che facciamo deve essere orientato a prodotti e servizi e qui arriviamo all'ultima onda l'ultima onda è fondamentale non possiamo naufragare sull'isola del purgatorio come ha fatto Ulisse oltre alle colonne d'Ercole c'era anche l'America ma lui non c'è arrivato non aveva chiaro dove andare gli ecosistemi cooperativi stanno cambiando il mondo ma dovevamo chiederci porci una domanda di fondo cos'è un business model e rispondo a queste domande come genera un valore per i miei clienti ma nella 4.0 questa domanda cambia diventa soprattutto chiederci cosa non fare come dice Porter più che la strategia la senza strategia è scegliere cosa non fare prima ancora di scegliere cosa fare allora io ho tre possibilità di impegnare la trasformazione digitale e lo dico alle aziende e lo dico ai ragazzi posso usare questa trasformazione digitale per fare efficienza produttiva posso usarla per fare innovazione di prodotto posso utilizzarla per avvicinarmi ai miei clienti io posso fare le tre cose insieme anche se è difficile farle insieme allora stanno cambiando i modelli di business un piccola mappa e qualche esempio quanto sta cambiando la mia proposta di valore perché potrebbe essere assolutamente la stessa potrebbe essere migliorata potrebbe essere assolutamente nuova come sta cambiando il mio modello di business a livello di ricavi posso continuare a vendere un prodotto io ti do qualcosa tu mi dai dei soldi posso vendere un noleggio io ti do qualcosa e tu mi paghi un noleggio posso vendere un comportamento posso vendere un risultato ci sono degli esempi bellissimi li abbiamo fatti durante il corso li comunico a chi non ha avuto la fortuna di parteciparvi oppure per chi magari ha sentito ha letto a mezzo stampa adidas ha creato una fabbrica adesso la vediamo che si chiama Speed Factory però non ha cambiato la proposta la sua proposta di valore c'è Kaiser Compressors che ha cambiato il modello di business noleggiando e non più vendendo le sue macchine c'è Rolls Royce adesso lo vedremo in dettaglio c'è Michelin che ha iniziato a sensorizzare i suoi pneumatici quelli per i camion e a vendere il risparmio di gasolio queste cose questa Speed Factory cosa ha fatto ha creato una fabbrica completamente automatizzata quindi ha preso la 4.0 l'ha usata per fare efficienza ha tolto le persone della fabbrica ma ha creato mille posti di lavoro per costruire questa fabbrica e adesso tu ti colleghi ti fai la tua sneaker personalizzata e te la spediscono a casa ne ha fatte due di queste fabbriche una in Germania e l'altra ad Atlanta è stato un grandissimo progetto e tra l'altro mentre andava avanti il progetto hanno dovuto cambiare anche le tecnologie perché era talmente veloce il cambiamento digitale che hanno dovuto riadattarlo questo non è un caso di 4.0 se ne va volando la Speed Factory è il caso di Rolls-Royce famosa per le auto ma magari forse più nota ancora per i motori di aereo cosa è successo a Rolls-Royce nel 2006 hanno iniziato a perdere dal punto di vista della marginalità per un motivo banale facevano motori sempre più duraturi e quindi vendevano sempre meno ricambi sui motori rimarginavano X sui ricambi rimarginavano 8 volte per cui non potevano smettere di fare motori buoni altrimenti la concorrenza li mangiava e hanno deciso che l'unico modo per restare sul mercato non era più vendere i motori ma vendere le ore di volo aggiuntive rispetto a un comportamento standard e questa idea di vendere risultato è la frontiera della outcome economy molte aziende che oggi fanno prodotti fra 10 anni faranno non servizi venderanno risultato e quindi saranno incentivate a realizzare prodotti e servizi con cui i propri clienti continuano a fare business in modo duraturo prima insomma Paolo mi ha citato e non potevo l'avevo già preparato le slide ma mi sembra giusto affidare a un grande maestro del passato il messaggio chiave di oggi per tutti dobbiamo disimparare tutto ciò che abbiamo imparato maestro spostare delle pietre è una cosa questo è del tutto diverso no non diverso sono diverso in tua mente debiti disimparare ciò che hai imparato d'accordo ci proverò no provare no fare o non fare non c'è provare la fascia di Luke Skywalker dice tutto scusate fare o non fare non c'è provare e visto che non ci sembrava il caso appunto di violare il sacro il sacro verbo di George Lucas 23 aziende hanno fatto dei project work non hanno provato hanno fatto li hanno messi qualcuno è già iniziato qualcuno partirà brevissimo ci sono 4 project work da raccontare ancora io con questo concludo i miei stimoli prima per i ragazzi attraverso queste 4 onde in cui surfare all'orlo del caos adesso queste onde sono iniziate le onde per le aziende grazie a tutti